Era la notte del 16 aprile 2020 quando un rogo devastò la sala di emodinamica della palazzina Calcit, un incendio doloso nel quale andò distrutto anche l'angiografo. A distanza di sette mani il responsabile fu individuato ed Alesso per il piromane arriva alla stangata. È stato condannato a quattro anni e mezzo e al ristarcimento di un milione di euro a favore dell'ASL. Ad individuare l'autore del rogo fu la squadra mobile della questura di Arezzo, un quarantenne originario della Sicilia senza fissa dimora. Senza alcun motivo appiccò il fuoco alla struttura. Per entrare forzò la serratura di una finestra e ruppe il vetro. Il tutto fu immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. Non solo, il quarantenne bruciò anche un'auto sempre al pionda. È stato protagonista anche di un atto incendiario in carcere. Proprio per questo episodio è stato riconosciuto incapace di intendere volere. La sentenza prevede anche la misura di sicurezza per cinque anni in una REMS. Il legale difensore ha già annunciato ricorso in appello.